Con le mani, con le mani, con le mani, cia cia, con i piedi, con i piedi, con i piedi, cia cia, con le mani, con le mani, con i piedi, con i piedi, con i piedi, con i piedi, con i piedi. Si torna a cantare, si torna possibilmente anche a ballare, insomma ci si prova a lasciare alle spalle questo brutto periodo. Perché davvero, non se ne poteva assolutamente più di stare lì chiuso in casa. Ancora però sicuramente non è finita, ancora c'è qualcuno che soffre, ancora c'è qualcuno che purtroppo soffre della pandemia, in quarantena, il covid. Comunque sia la malattia sta scemando, sperando che con la bella ragione sparisca e finalmente si torna a respirare un'aria nuova e un'aria vecchia di come la prima a sto mondo, perché altrimenti siamo veramente messe mali, non ne possiamo più di stare in casa, basta. Insomma la formula karaoke e ottima cucina funziona sempre? Sempre, è l'ideale, la gente viene, mangia bene come stasera sicuramente che ha mangiato tanto pesce e poi si diverte a cantare con noi, è veramente un piacere. Il repertorio vedo che è stato aggiornato dai successi di Sanremo. Però ci sono tante altre canzoni, come vedi io faccio sempre la parte del bischerino, perché mi piace far divertire, divertirmi. E poi ci sta anche una... Il livello naturale. No, sono così, chi mi ama, mi ama per quello che sono. Però vedo che la gente accetta l'invito a mettersi in gioco, no? Sì, perché proprio non ne vuole più e poi ha bisogno di uscire, ha bisogno di divertirsi e di sfogarsi. E noi cerchiamo di farlo, eh. Roberto è la, diciamo, la new entry di questo duo che ora è diventato un trio e insomma divertire e far divertire fa sempre piacere. Certo, quello sicuramente, siamo qui per questo, per far divertire la gente, ci divertiamo anche noi allo stesso modo, per cui va bene così. Poi ti ritrovo qui, puntuale al posto tuo, tu spettatore vuoi, davvero io viva il sogno che...